Dall'inizio di questa settimana il blocco parto all'ospedale civile è chiuso, alcune donne in procinto di partorire trasferite a Sassari, sospesi i cesarei. L'ASL chiarisce chiusura temporanea per eseguire i lavori necessari che dovrebbero concludersi entro la prossima primavera. Via Libera del Consiglio Comunale è un'importante variazione di bilancio da quasi 4 milioni, la maggioranza si spacca su alcuni punti, Via Libera un emendamento di Sartore con i voti dell'Udc e di una parte di Forza Italia. Frenata nella crescita in Sardegna, analisi della Camera di Commercio sui dati del 2023, crollo del commercio, salgono le attività immobiliari, servizio alla persona. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di CatalanTV, dunque questo era il sommario di oggi. Apriamo con la sanità. Chiuso il blocco parto dell'ospedale civile di Alghero. Le future mamme dovranno partorire a Sassari o altrove, ma dall'ASL arriva il chiarimento. Chiusura temporanea. I lavori dovrebbero concludersi entro la primavera del 2024. Alcune donne in procinto di partorire sono state trasferite a Sassari e sono stati interrotti anche i cesarei. Inizialmente qualcuno ha ricondotto la chiusura del blocco parto all'ospedale civile alla cronica mancanza di personale, invece successivamente è arrivata la nota di chiarimento dei vertici dell'ASL di Sassari. Dalla giornata del 14 novembre, al fine di consentire dei lavori improrogabili di messa a norma della struttura, è stato chiuso il blocco parto al secondo piano dell'ospedale civile di Alghero, si legge. L'azienda sanitaria, in accordo con le strutture e con le altre aziende del sistema sanitario regionale, ha sospeso in via provvisorie per il tempo di realizzazione dei lavori di adeguamento le attività del blocco parto e di ricovero delle gestanti, che saranno indirizzate negli altri punti nascita del territorio. Secondo quanto fatto sapere dall'ASL, l'intervento avviato in queste ore riguarda la manutenzione straordinaria del blocco parto, al secondo piano dell'Alanord dell'ospedale civile, e prevede l'adeguamento delle opere edili e impiantistiche quali quelle dei gas medicali, impianto elettrico, di ventilazione, di condizionamento e antincendio, oltre al rifacimento della pavimentazione. L'intervento di circa 600 mila euro dovrebbe essere concluso entro la primavera 2024, giungono dall'ASL sassarese. I lavori, ormai improrogabili per la messa a norma dei luoghi, costringono a una rimodulazione, oltre che della struttura di ostetrice e ginecologia, delle attività garantite anche dalla struttura di pediatria e nido. In accordo con l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari e l'assessorato regionale alla sanità, spiegano dall'ASL, le nascite vengono centralizzate presso il Dipartimento Materno-Infantile dell'Audi Sassari. Al civile di Alghero verranno garantite comunque le emergenze ostetrico-ginecologiche indifferibili. Questo comporta, anche vista la carenza di pediatri, la provvisoria rimodulazione dell'attività garantita dalla struttura complessa di pediatria e nido. L'attività ambulatoriale, le consulenze specialistiche e pediatriche verranno garantite dalle 8 alle 20, mentre viene garantita la pronta disponibilità per emergenze pediatriche indifferibili nelle ore notturne. La politica ora con il Consiglio Comunale di ieri, che ha approvato diversi punti all'ordine del giorno su tutta la variazione al bilancio di circa 3.800.000 euro, sulla quale però c'è stata una spaccatura all'interno della maggioranza sui 150.000 euro inizialmente previsti per iniziative azioni per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo. Infatti è stato presentato un emendamento dall'esponente di centro-sinistra, Pietro Sartore, che ha chiesto di dirottare queste risorse per la videosorveglianza in ottica sicurezza. Un emendamento che è stato votato in maniera compatta dall'opposizione, dai consiglieri dell'Udcim ma anche da una parte di Forza Italia, ad eccezione di Tatiana Argiolas. Non sono esclusi i contraccolpi, così come ha lasciato intendere lo stesso sindaco ieri in aula. Per il resto l'importante provvedimento finanziario è passato con i voti della maggioranza, anche se sono stati di fatto stralciati anche 50.000 euro inizialmente previsti per il parco di Porto Conte. Andranno invece per lo sportello per la prevenzione del conflitto familiare, così come aveva chiesto l'esponente dell'Udc, Cristian Mulas. Anche in questo caso sono stati determinanti i voti di Forza Italia. Era un mio progetto, votato un anno fa con un ordine del giorno, risultato importante per la comunità algherese, visti anche i numerosi episodi di violenza domestica registrati, ma soprattutto sarà uno sportello alla prevenzione al conflitto familiare. Sono orgoglioso di aver portato un progetto utile per le famiglie, ha commentato lo stesso Mulas. Soddisfatta anche l'assessora alle finanze al bilancio Giovanna Caria, proprio per il Via Libera alla variazione al bilancio. La sentiamo. Sessora, ieri in Consiglio Comunale è approvata la variazione al bilancio, un'importante variazione al bilancio, perché di 3 milioni e 8. Sì, ieri è stato un consiglio importante, molti punti all'ordine del giorno importanti, sicuramente la variazione al bilancio, che contiene l'applicazione dell'avanzo, di amministrazione, per un importo complessivo di 3 milioni e 8. È stato, sì, quindi un atto molto importante, condiviso dalla maggioranza, per cui sicuramente è un risultato che è ottenuto in maniera forte e decisa. Altri punti all'ordine del giorno, ugualmente importanti, che riguardano l'urbanistica. Un altro punto rilevante è l'approvazione del regolamento di contabilità, un dato che era importante acquisire, proprio per il funzionamento degli uffici. Per cui, insomma, sì, un consiglio davvero, insomma, corposo, ma con risultati buoni. Con il capogruppo di Forza Italia, Annunzio Camerada, invece abbiamo parlato di quanto avvenuto in Consiglio sul voto, un emendamento riguardante appunto i 150 mila euro, inizialmente destinati al settore turistico. Con lei che è il capogruppo di Forza Italia, parliamo più degli aspetti politici del Consiglio di ieri, c'è stato una sorta di cortocircuito, possiamo dire così? Ma non un cortocircuito, un piccolo cortocircuito, se proprio vogliamo utilizzare questo termine. La variazione prendeva in esame la spendita di 3 milioni 800 mila euro. Non eravamo convinti, e l'abbiamo dimostrato, sulla spendita di circa 200 mila euro, di cui 150 mila euro, indirizzati verso un progetto presentato dall'assessorato al turismo e comunque sostenuto anche dalle associazioni del comparto ricettivo alberghiero, che sono il consorzio turistico rappresentato da Marco Montalto, dall'associazione Domos rappresentata da Marco Di Gangi e l'associazione Welcome to Alghero rappresentata da Gabriele Cattogno, perché il consorzio turistico è molto più ampio. L'amministrazione di Alghero investe molti denari sul comparto turistico, è inutile dire tutte le manifestazioni che vengono fatte, concerti, promozioni di tutti i tipi, quindi la nostra città spende molto nei confronti di questo settore. Forza Italia non era convinta di questo progetto, che aveva impegnate le somme per 150 mila euro, per un progetto che risultava neanche un doppione di un progetto molto più ampio che già sta facendo la regione Sardegna. Quindi abbiamo dimostrato questo, l'avevano già fatto i nostri assessori in giunta, l'abbiamo rimarcato in aula. In questo ambito la consigliera Argiolas, non era dello stesso avviso del gruppo e del partito di Forza Italia, ha preso una decisione in maniera autonoma, ma questo ci sta, è fisiologico, non sempre si è d'accordo su tutte le scelte, Forza Italia non è una galera, non è una prigione che impone niente a nessuno, e ciascuno al proprio interno può prendere decisioni in maniera autonoma. 150 mila euro che verranno invece destinati per un progetto sulla videosorveglianza. Sì esatto, c'è da sottolineare questo, che abbiamo, cogliendo l'opportunità che è stata creata da un emendamento proposto dalla opposizione, che vedeva, manifesta i contenuti di un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che è un ordine del giorno molto più ampio, che comunque prevedeva un sistema di videosorveglianza in città. Ecco, 150 mila euro oggi andranno per la realizzazione di questo sistema di videosorveglianza, che, aggiungo, se utilizzato come nuova tecnologia con il sistema di intelligenza artificiale, può essere la base per la creazione di una smart city nella città di Alghero, dove non solo la videosorveglianza serve per la sicurezza, ma serve anche per la raccolta dei dati. Quindi benvenga questo nuovo sistema che renderà la nostra città più sicura e probabilmente potremo incrementare quella che è la raccolta dei dati con un sistema innovativo. Il sindaco di Alghero ha dato a nome dell'intera città il benvenuto e augurato buon lavoro alla dottoressa, grazie alla Fauci da qualche settimana, nuovo prefetto a Sassari, certo di una collaborazione che proseguirà positivamente, scusate, come sempre avvenuto con oggi, ha affrontato con lei i temi centrali per Alghero, dall'organizzazione della protezione civile alla sicurezza agli eventi, ha sottolineato il grande contributo del mondo del volontariato in molti settori, da quello sanitario a quello sociale della protezione civile. Ho descritto una collettiva attività che vuole operare in collaborazione con il territorio e con le altre istituzioni, prefetture in primis, ha detto il sindaco. Il prefetto ha ribadito la volontà di continuare a svolgere un ruolo cruciale a sostegno delle istituzioni e dei cittadini del territorio, mantenendo una stretta relazione operativa con i comuni e in particolare per Alghero, già per i prossimi appuntamenti di fine anno, per i quali è necessario operare insieme per garantire la migliore riuscita degli eventi. Il tasso di crescita del terzo trimestre 2023, parliamo quindi di economia, ha registrato un risultato positivo nella totalità delle regioni italiane, e tuttavia la Sardegna evidenzia in questo periodo un tasso di crescita nettamente al di sotto della media nazionale, un più 0,16% contro un meno 0,26%, mantenendo invece un trend superiore se si considerano i primi mesi dell'anno, dove in Sardegna contiamo un più 0,66%, mentre nel resto dell'Italia un più 0,60%. Da inizio anno, a livello nazionale, si contano oltre 240.000 iscrizioni, circa 3.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e in calo di oltre 15.000 rispetto ai primi nove mesi del 2021. Dal lato delle cancellazioni, le 204.000 stanze risultano superiori sia al 2021 che al 2022, e nettamente inferiori alla media degli anni prepandemici, quando si registravano 250.000 cessazioni d'ufficio. A fine settembre 2023 in Sardegna, come evidenza il report dell'ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, sono presenti oltre 145.000 imprese attive, circa 1.000 in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. In questo senso è ben evidente il forte contributo del comparto primario, che mantiene costantemente circa un quarto delle imprese totali. Tuttavia, da settembre 2022 a quello del 2023, si segnala una riduzione di oltre 600 imprese dell'agricoltura. Fa peggio in valori assoluti solo il commercio, che perde nel periodo analizzato quasi 800 iniziative imprenditoriali. Il comparto del commercio detiene il 24% delle imprese totali, dato continuamente in discesa. Sensibile calo anche nel settore industriale, il peggiore in termini percentuali, che riduce la propria base imprenditoriale di 259 attività. Sorride, come ormai da diverso tempo, il variegato mondo dei servizi, con quasi il 20% delle imprese totali. Questo comparto presenta a fine settembre poco meno di 27.000 iniziative, 565 in più rispetto allo stesso mese del 2022. A trenare l'espansione sono in particolare le attività professionali e scientifiche, quelle di noleggio e servizi alle imprese e quelle immobiliari. Nonostante questa crescita, si segnali una flessione del numero di bar ed esercizi simili, che perdono in nove mesi 50 iniziative imprenditoriali. Lo stesso fenomeno ha caratterizzato il comparto del commercio ormai in piena sfissia, con una riduzione media di circa 100 imprese a trimestre. Il nord Sardegna, dove trovano sede il 32% delle imprese regionali, da gennaio a settembre si è contraddistinto per un più 1% di crescita. Nel trimestre luglio-settembre invece solo lo 0,2%. Attraverso il confronto dei dati tra settembre 2022 e quelli del 2023 si assiste ad un aumento del livello occupazionale di poco inferiore a 2.000 addetti. Era quasi scontato attendersi questa flessione, dice il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, che si stava registrando nei mesi precedenti. Tuttavia il sistema economico isolano e del nord Sardegna in particolare, nonostante tutto, stanno dimostrando una discreta capacità di tenuta con la cronica regatività di settori che continuano a soffrire. Il terzo trimestre sulla spinta del settore turistico ricettivo ha evidenziato un buon salto in avanti sotto il profilo occupazionale, un dato questo che possiamo accogliere con favore. Il 18 novembre Fedez e Civis per Dona il Sangue e Salva la Vita saranno in Piazza Duomo a Milano. Il celebre artista milanese e i volontari delle principali associazioni nazionali del dono del sangue saranno insieme per un evento dedicato alla gioia di donare. L'associazione Fratres Rivera del Corallo di Alghero, accogliendo l'invito proprio del Civis e della Confederazione Nazionale di promuovere iniziativi simili in tutta Italia, ha organizzato in stretta collaborazione con la direzione del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Civile una raccolta di sangue per sabato 18 novembre. Dalle 8 alle 12.30, Santa Maria La Palma, l'autoemoteca ASL, sarà posizionata a fronte la farmacia della dottoressa Sale. Tutti i donatori riceveranno a domicilio le analisi del sangue, gli sarà offerta la colazione e verranno omaggiati, come da tradizione, di un prodotto del territorio. Donare a un doppio obiettivo ricordano dall'associazione innanzitutto salvare una vita e poi controllare il buono stato di salute. E ora parliamo di yoga e meditazione e dei benefici sul Parkinson. Ippocrate Lab apre le porte per dare spazio alla presentazione di un progetto costruito da Valentina Arca, proprio dell'Ippocrate Lab, insieme all'associazione Parkinson Olus Salguero, di cui il presidente è Marco Balbina. L'obiettivo è la sensibilizzazione su una patologia neurodegenerativa molto conosciuta, proprio il Parkinson. Secondo l'American Parkinson Disease Association, la terapia yoga ha dimostrato di ridurre visibilmente i tremori e migliorare la stabilità dell'andatura di un individuo. Lo yoga è una delle terapie complementari più benefiche per la malattia del Parkinson, poiché aiuta ad aumentare la flessibilità, migliorare la postura, allenare i muscoli tesi e dolorosi, costruire o ricostruire la fiducia e quindi migliorare la qualità della vita. Lo yoga rafforza la relazione mente-corpo, migliora l'equilibrio, riduce l'ansia, aumenta la forza e la stabilità, scioglie i muscoli tesi e riduce ansia e depressione, creando fluidità di movimento e raggiungendo un senso di benessere. L'appuntamento per la presentazione di questo interessante progetto è per domani, 17 novembre alle ore 10 e 30, presso l'Ippocrate Lab in Via Frank 11. Ed ora parliamo di sport, è precisamente del fine settimana delle squadre giovanili dell'amatore rugby Alghero, che è stato caratterizzato da momenti di sfida e crescita. Domenica l'Under 14 ha affrontato l'Olbi in una partita equilibrata, terminata con una sconfitta di misura per l'Alguero, 22 a 19, squadra ha dimostrato forza, soprattutto con l'introduzione di nuovi talenti. L'Under 16, giocando in trasferta contro Olbi, ha subito una sconfitta significativa. Dopo un inizio difficile, i giovani hanno però dimostrato notevoli miglioramenti, evidenziando resilienza e spirito di squadra. Per l'Under 18 la giornata è stata più positiva, vittoria contro Olbi per 29 a 24. L'allenatore Danilo Canu sottolinea le difficoltà iniziali a causa del vento, ma nel secondo tempo la squadra ha ribaltato il punteggio grazie al contributo fondamentale di Secchi, che è stato premiato man of the match. Infine la Serie C, che ha visto la squadra di Alghero lottare contro Sassari, con una formazione ridotta. Nonostante la sconfitta per 13 a 0 e l'assenza di sostituti, la prestazione è stata positiva, mostrando la dedizione e lo spirito combattivo di tutto il team. In conclusione, questo weekend ha offerto momenti di apprendimento e trionfo per l'amatore rugby Alghero, riflettendo la dedizione e la crescita dei giovani atleti delle nostre squadre di rugby. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora, come di consueto, lo spazio va alle previsioni del tempo per domani. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.